Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà ancora questo centro di bassa pressione attivo sul Mediterraneo centrale, anche se coinvolgerà principalmente solo la Sicilia. Nel resto Italia tutto sommato condizioni meteo discrete, specie al centro nord dove l'alta pressione garantisce ampie zone di sereno. In effetti controllando la nuvolosità attesa sull'Italia, vediamo che al nord il tempo rimarrà bello, anche nel centro Italia non mancheranno ampie zone di sereno, al sud si fa ancora vedere qualche annuvolamento, però ripeto la Sicilia sarà la regione in cui le nuvole saranno più insistenti ed estese. In effetti le precipitazioni si concentreranno proprio sulla Sicilia, altri acquazzoni, altri piovaschi, purtroppo vi anticipo tra giovedì e venerdì queste piogge tenderanno anche a intensificarsi nuovamente. Quindi in definitiva ci attendo mercoledì discreto in gran parte d'Italia, ma con ancora delle piogge in Sicilia, qualche nuvola di passaggio al sud, ampie zone di sereno invece al centro nord. Temperature diurne accettabili, dai arriviamo a toccare anche i 20-21 gradi, di notte a primo mattino però temperature davvero contenute al centro nord. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.